Il nostro ruolo è in primo luogo l'organizzazione proprio materiale di tutta la manifestazione in un ruolo non meno importante ma anzi direi, qui sembra di fare uno scambio di favore ma come l'amministrazione comunale ha bisogno di noi per questa manifestazione in ugual misura noi abbiamo bisogno dell'amministrazione comunale quindi io tengo a ringraziare il sindaco in prima persona e tutti anche i dipendenti del comune che già da un po' di tempo stanno lavorando per la riuscita e per il buono svolgimento della manifestazione tengo a precisare che oltre alla banda Bardot nelle altre due piazze ci saranno altre iniziative e quindi la serata sarà dedicata non solo ad un pubblico giovane ma anche a una cerchia di persone ancora più giovani che sono i bambini e quindi nella piazzetta dove è per capirsi la statua di Poggio Bracciolini la piazza dei bambini e nell'altra piazza al lato opposto all'inizio di via Roma la piazzetta dell'orologio ci saranno gli angeli in blue jeans che animeranno la serata con una novità che quest'anno sarà svolta proprio in quella piazza la novità non ve la dico perché sarà comunque una cosa che almeno avrà un appetito sarà qualcosa che la gente vorrà venire per vedere quella che è la novità quindi vi aspettiamo numerosi e un grazie particolare all'amministrazione Grazie